Tra i giocatori svincolati più seguiti c'è sicuramente Fernando Llorente, ex Juventus e Tottenham. Finito nel mirino di diverse squadre di Serie A, potrebbe essere la Lazio a spuntarla che sta provando a capire se ci sono i margini per portare il centravanti 34enne a Formello. Da superare però la folta concorrenza di Inter, Napoli e Fiorentina con il rischio fondato di partecipare a un'asta. Sullo sfondo attenti all'Inter, dove Llorente potrebbe ritrovare il suo ex tecnico ai tempi della Juventus, Antonio Conte. Il Real Madrid non molla l'ipotesi di prendere il centrocampista del Tottenham, Christian Eriksen, nel mirino anche della Juventus. Il forte giocatore danese andrà in scadenza il prossimo 30 giugno e per i club inglese il rischio di perderlo a parametro zero è altissimo. Se i bianconeri studiano l'ennesimo colpo low cost, stando a quanto riferito dal Sun, il presidente Blancos, Florentino Perez, vorrebbe aspettare le ultime ore di mercato per sferrare l'offensiva decisiva con un'offerta altissima, 60 milioni di sterline, ovvero 65,5 milioni di euro. Il patron degli Spurs, Daniel Levy, si legge sulle colonne del tabloid inglese, difficilmente rispedirebbe al mittente la proposta da prendere o lasciare degli spagnoli. L'arrivo di Philippe Coutinho al Bayern Monaco in prestito potrebbe frenare il ritorno di Neymar al Barcellona. Questo perché, secondo il giornale francese L'Equipe, l'ex Liverpool era il calzatore che più interessava al PSG, quello che sarebbe stato più gradito da Tuchel come contropartita tecnica da inserire nella trattativa. Una pedina chiave, insomma, nell'intreccio che dovrebbe riportare Neymar in Catalogna e che ora è venuta meno. Al momento, scrive ancora l'Equipe, la posizione del PSG non cambia. La squadra parigina chiede una cifra di circa 100 milioni di euro per cedere Oney, oltre all'inserimento di due giocatori. Il Barça era arrivato a mettere sul piatto Rakitic e Coutinho, ma l'offerta non ha superato i 60 milioni, cifre ben lontane dalle richieste. Partito Coutinho, l'ultima chance sarebbe quella di inserire il francese Dembélé nell'operazione. Scenario quasi impossibile per il presidente Blaugrana Bartomeu e allora in Francia si chiedono se il Real Madrid sia pronto o meno ad entrare in scena. Giovanni Simeone può innescare il balzer delle punte in casa fiorentina. Offerte ufficiali per il momento non ne sono arrivate, ma l'argentino piace molto alla Sampdoria e se dovesse partire la società viola dovrebbe agire andando a comprare un attaccante. Serve esperienza un profilo come Llorente o Kalinic che non si è lasciato affatto bene con Firenze ma che potrebbe voler tornare. Se poi Simeone restasse allora si punterebbe su altre figure come Rodrigo De Pol. Si guarda con interesse l'uscita dell'Atletico Madrid di Nicola Kalinic, sulle sue tracce ci sono anche Atalanta, Bologna e Roma, ma a portarlo a Firenze fu proprio il DS Pradè che bene lo conosce. Attenzione poi a Fernando Llorente, svincolato, che fin qui ha fatto sapere di volere un contratto triennale.